La giunta comunale che si è riunita lo scorso 21 novembre su proposta del sindaco Coppola ha approvato il progetto definitivo degli interventi di adeguamento dell'impianto sportivo di concilio. Questa serie di interventi è compresa nel programma triennale 2019-2021 e nell'elenco annuale 2019 dei lavori pubblici ed è stato deciso di approvare il progetto definitivo redatto dall'ingegnere responsabile area lavori pubblici Agostino Sica per un importo totale di 320.000 euro di cui circa 250.000 per i lavori e gli oneri di sicurezza e circa 65.000 a disposizione dell'amministrazione comunale per le varie spese tecniche e generali. Le spese per la realizzazione dei lavori al palazzetto dello sport troveranno copertura finanziaria tramite la contrazione di un prestito con la cassa depositi e prestiti. La giunta ad un'animità dei voti delibera di rendere immediatamente esecutiva la proposta e approva il progetto definitivo. Quindi dopo i recenti atti di vandalismo nella struttura ad agosto l'amministrazione si mobilita per effettuare una necessaria serie di lavori vista l'importanza che ha il palazzetto di concilio per la comunità essendo una struttura polivalente che ospita le partite casalinghe della New Basket Agropoli.